Ciao, sono Merigio. Oggi andremo a vedere come Indiba può aiutarti in caso soffri di dolore cervicale. Come funziona Indiba? Andiamo prima a vedere come funziona la tecnologia, come possiamo applicarla al tuo dolore cervicale e la tipologia, la causa dei dolori cervicali. Innanzitutto Indiba sappiamo che è una tecnologia conosciuta anche come tecaterapia, cioè trasferimento energetico capacitivo resistivo. Si tratta di una tecnologia basata sull'applicazione quindi di corrente. È una corrente che attraversa il nostro tessuto e passa da un elettrodo attivo, che è questo qui, a un elettrodo di ritorno, cioè una piastra di ritorno, potete vederla anche qui, in mezzo al circuito c'è il nostro tessuto da trattare. Indiba ha anche un effetto termico, quindi possiamo trattare patologie in acuto dove non possiamo dare temperatura e riuscire a trattare solo con effetto elettrico e biostimolazione e invece dare temperatura e creare un effetto termico dove ci serve delle temperature, quindi negli spasmi muscolari, nelle contratture muscolari, in tutti quei tessuti sofferenti che hanno bisogno di un aumento della circolazione locale. Cos'è la fascia? In questa presentazione parliamo di fascia perché andremo a vedere non solo l'utilizzo di indiba con gli elettrodi classici, ma anche con indiba fascia. Indiba fascia permette di trattare appunto tutta la rete fasciale che ricopre il nostro corpo. Infatti si tratta di una rete tridimensionale interrotta che avvolge tutte le nostre strutture muscolari, capsulari, legamentose. Dovete immaginarla un po' come una seconda pelle che dà forma e mantiene uniti connessioni distali e prossimali al nostro corpo, di tutto il nostro corpo. Quindi avvolge il corpo e lo protegge. Pensandolo come una seconda pelle, pensate, non so, alla mia maglia. Se noi abbiamo un punto di retrazione, quindi di restrizione della fascia, avremo tensioni distali, quindi lontane dal punto in cui c'è una struttura più densa della fascia, avremo magari una sintomatologia lontana e periferica. Come funziona indiba fascia? Indiba fascia metti a disposizione questi elettrodi, sono di tre tipologie, in base al tessuto da trattare. In questo modo riusciamo a selezionare l'elettrodo migliore in base al tessuto che vogliamo trattare. Se vogliamo trattare una zona più vasta, come può essere un quadricipite, una coscia, sicuramente tra i tre elettrodi utilizzeremo l'elettrodo più lungo, quindi che ci dà la possibilità di lavorare più globalmente tutta la fascia. Possiamo utilizzarla con diverse angolazioni, quindi più puntuale o meno puntuale. Se invece dobbiamo fare un lavoro più selettivo, trattare ad esempio un'aderenza a livello articolare, lavoreremo con questo più puntiforme, quindi riusciamo ad essere più selettivi in una zona di restrizione miofasciale. O possiamo utilizzare anche quest'altro elettrodo ovviamente in porzioni anatomiche più piccole, dando sia una mobilizzazione fasciale globale ma anche più puntiforme. Si può utilizzare il contatto con il paziente con qualsiasi punto dell'elettrodo, quindi possiamo sfruttare al meglio i nostri elettrodi per adeguarlo al trattamento nella maniera migliore. La teoria di indibafascia si basa sul seguire i meridiani miofasciali di Myers, quindi queste catene miofasciali che creano continuità, come vi ho detto, in tutto il nostro corpo. Ad esempio, se prendiamo per esempio una catena posturale di Myers posteriore, possiamo vedere come si parte dal calcagno, la fascia si espande verso la parte superiore, abbiamo un punto di ancoraggio sulla testa del perone, continuiamo ad andare su fino alla parte posteriore del bacino, osso sacro, su tutta la colonna vertebrale, abbiamo dei punti di ancoraggio della fascia, fino ad arrivare alla zona occipitale e posteriore al cranio e ad arrivare e ad avvolgere la parte frontale fino alla parte anteriore del cranio. Gli effetti terapeutici di indibafascia quindi sono molteplici perché uniamo l'azione meccanica dell'elettrodo all'azione della corrente di indibafascia, quindi abbiamo un effetto più veloce ed efficace, quindi riusciamo a sbloccare adesioni e restrizioni fasciali utilizzando globalmente sia la corrente sfruttando la corrente e l'effetto biologico di indiba e sia l'effetto meccanico degli elettrodi. Quindi riusciamo a ripristinare l'elasticità di questo tessuto connettivo che può subire restrizioni per movimenti ripetuti, per posture mantenute a lungo, per gesti sportivi ripetuti eccessivamente e riusciamo ad aumentare anche la stabilità articolare perché dove ci sono questi punti di restrizione fasciale l'articolazione non va più a lavorare come dovrebbe ma continua a lavorare male creando sempre più restrizioni miofasciali. La cervicalgia, torniamo alla patologia dalla quale eravamo partiti. La cervicalgia quindi il dolore a livello cervicale porta ad avere dolore sia nella parte locale dell'area ma anche più periferico sulla zona dei trapezzi. Quindi aumenta la tensione e l'accorciamento di un muscolo dove può esserci un trigger point, un tender point e ci possono essere anche spasmi di muscolatura periferica, spasmi riflessi. Quindi ad esempio se abbiamo una contrattura della parte posteriore del collo, quindi magari a livello proprio della zona nucale e anche del trapezio, possiamo avere di riflesso degli spasmi anteriori, quindi una retrazione dei muscoli anteriori del collo. Possiamo avere una disfunzione e una limitazione motoria, quindi tutti quei casi in cui abbiamo difficoltà a ruotare completamente la testa o ad andare in alto con lo sguardo abbiamo limitazioni nel movimento. Può esserci anche una compressione nervosa, quindi non solo un dolore localizzato ma anche che si espande lungo tutto il braccio. Abbiamo anche disturbi del sonno in questo caso, tutte quelle situazioni in cui non riusciamo mai a trovare la posizione, ci svegliamo di notte con una rigidità cervicale, ci provoca una diminuzione della qualità della vita, quindi è importante che il dolore cervicale venga curato al meglio. Passiamo ai trattamenti nella cervicalgia, quindi gli effetti che avremo con la combinazione di indiba e indiba fascia sarà una diminuzione del dolore cervicale, un rilassamento dei muscoli nell'area cervicale, quindi come vi dicevo lavorando tutta la muscolatura che si ancora sulla colonna cervicale riusciremo ad avere un miglioramento del dolore, un rilassamento muscolare e un miglioramento di tutta la postura del corpo perché ritorneremo ad avere tutta la mobilità completa della zona cervicale. Quindi andremo a rilasciare le restrizioni limiofasciali. Il fisioterapista che vi tratterà può anche trattare la zona lombare e magari voi avete un dolore cervicale, questo perché come vi ricordo la fascia è una sostanza connettivale di continuo per tutto il corpo, quindi se noi abbiamo una retrazione a livello della zona lombare sicuramente avremo anche dolore cervicale. Controindicazioni al trattamento, dobbiamo saperle perché non possiamo trattare pazienti con pacemaker, donne in gravidanza, in caso utilizziamo anche indiba fascia, non possiamo trattare pazienti che hanno feriti aperte, patologie del sangue, quali magari l'emofilia, visto che il trattamento è un trattamento meccanico che a volte può essere anche molto importante nella zona di dolore, può creare magari echimosi, quindi è preferibile essere attenti a queste controindicazioni, a queste attenzioni d'uso. Bene, andiamo a vedere in parte pratica come possiamo trattare una cervicalgia con indiba fascia. Prepariamo la zona. Allora vieni pure Irene, mettiti pure seduta. Ok, in questo caso il paziente lo mettiamo seduto, così riusciremo a trattare per bene tutta la zona del trapezio del collo. Posizioniamo la placca neutra di ritorno che vi ricordo deve essere sempre a contatto con il paziente. La possiamo posizionare al di sotto della coscia, della gamba. Perfetto. Ok, in questo caso possiamo liberare la zona da trattare. Prendere l'elettrodo che ci sembra più congruo alla zona di trattamento, quindi magari potremmo scegliere questo qui. Andiamo a collegarlo a indiba. Perfetto. E posizionando una piccola quantità di crema andremo a lavorare per bene tutta la zona muscolare di dolore. Potremmo utilizzarlo sia nella parte concava, ed è un trattamento meno aggressivo della zona, sia dalla parte convessa. In questo caso potremmo fare un lavoro più profondo, trovare le zone di aderenza ai miofasciali e lavorarle. Andando poi a trattare la zona alta del collo, possiamo anche utilizzare lo stesso elettrodo di indiba fascia, però in maniera puntiforme. Quindi andare a liberare tutte queste zone della parte suboccipitale, che solitamente sono molto fibrotiche nei casi di cervicalgia cronica. Oltre la parte muscolare del trapezio e del collo, per trattare la parte anteriore possiamo posizionare la paziente pancia in su. Quindi Irene, vieni pure qui. Perfetto. E posizioniamo la piastra al di sotto della zona lombare, sempre a contatto con la pelle. Perfetto. In caso di contratture e cervicalgie e di dolori posteriori della zona cervicale, come vi dicevo, spesso ci sono spasmi muscolari riflessi, quindi nella zona anteriore, sia del collo ma anche possiamo salire e trattare la zona della temporomandibolare. Dunque, in questo caso andremo magari a utilizzare un elettrodo fascia più puntiforme. Andiamo a mettere un po' di crema e possiamo andare a trattare selettivamente tutta la zona di questo muscolo anteriore e anche, come vi dicevo, salire nella zona dei muscoli masticatori e andare a liberare questi trigger point miofasciali che spesso provocano anche dolore cervicale. Soprattutto se vi capita di notte di stringere i denti, di digrignare i denti, questi muscoli saranno sicuramente affaticati e troveremo restrizioni miofasciali. Ok, spero di essere stata chiara, di avervi illustrato al meglio come Indiba può aiutarvi a risolvere dolori cervicali. Se avete curiosità di vedere altri video che riguardano altre patologie, seguiteci sul canale YouTube Indiba Active. Grazie!